La zona è transennata, il protocollo è quello di sempre. Incognizione e ispezione. Chiedo un'attività che non ha accesso. Bene, gente, lo sapete. Semplice e veloce. La procedura la conosce. Documentazione esaltiva, quindi riprenda tutto. Ma qui è tutto troppo tranquillo. Stai buono, no, no! Resisti, Marcos, arriviamo! Corrente, corrente, dov'è? È via, via! La porta è aperta! Prenda, la usi! Che cos'è la cazzo? Non lo so! Fai il cazzo che vuoi, ma la telecamera è mia e me la prendo. Che faccio? Ti do? Dammi. Che cos'è la cazzo che vuoi.